Dimostrazione matematica Gesù, rinascendo il 25 gennaio 1938, rinasce in Romano nei giorni di un'opera piena e tutto ciò lo dimostra. Infatti i giorni dal 25-12 dell'anno 0 al 25-1-38 sono esattamente questi 1937 anni per 365 giorni ogni anno, sommati ai giorni bisestili dati da 1937 diviso 4 più 31 tutti i giorni che vanno dal 25 dicembre 1937 al 25 gennaio 1938 in cui è nato Romano sono 707.500 più 484 più 31 per il totale di 707.520. Ebbene, 707.520 giorni sono che sono 707.000 giorni più 520 giorni che sono 10 anni divisi in 7 giorni, infatti un anno a 52 settimane. Questa è l'opera completa in 7D riguardante 101.000 come l'onda reale 100 più 1 avente 110 elevato a 3, ossia 1000 unità di massa. L'onda reale aggiunge a 10 decimi quali il suo alto, il suo inverso dato da 10, non diviso 10, ma per 10, qual è il suo inverso basso e vale dunque 101 masse, ciascuna delle quali è 1000. Alla massa dell'onda unitaria 101.000, espressa in 7 giorni quanto 707.000, si aggiunge il dettaglio del tempo unitario in 10 anni divisi per 7 e in modo tale da unificare i 7 giorni. Infatti la somma di 101.000 per 7 più 10 anni per un settimo in assoluto, ossia espressa in potenza sulla base 10, equivale al prodotto di 10 elevato a 101.000 elevato a più 7 giorni per 10 elevato a 10 anni elevati a meno 7 giorni. in cui 10 elevato a 10 anni è la quantità assoluta, 10 alla 10, che espressa in anni che sono l'unità del tempo e in potenza un settimo, si combina e unifica con quelle 7 volte il ciclo unitario della massa dell'onda unitaria reale. Ne consegue il risultato di 707.520 giorni che sono dunque una vera unità e strabiliante. Essa è data dalla combinazione di 1 per 2 elevato a 6, per 3, per 5, per 11, per la sommatoria di 11, che è 66, più 1 e combina così 2 elevato a 6, ossia 64, con i 5 numeri primi 1, 3, 5, 11 e 67. Ne consegue una divisibilità intera eccezionale, in 103 unità pari al dio assoluto, sommo, sommo divisore, centuplo e trino. Esse sono indicate qui sotto. Sono tutti i numeri per i quali la quantità di 707.520 giorni si divide in modo unitario ed esatto, senza alcuna virgola. Sono ben 103 unità proprio pari al dio assoluto, che è un sommo divisore, centuplo e trino. Poiché 707.520 diviso per 67, che è l'unità assoluta di 1 più romano uguale a 66. Quando è uguale a 66? Quando diamo un valore numerico alle lettere, tanto che la R, che è la sedicesima, vale 16, più la O, che è la tredicesima, vale 13, più la M, che è la undicesima, vale 11, più la A, che è la prima, vale 1, più la N, che è la 12, vale 12, più la O, che è la 13, vale 13. Quindi un valore assegnato alla posizione alfabetica usata dalle lettere. Quando si fa questo, romano è 66. E 67, il numero primo che aggiunge alle 66 unità anche l'unità, e quindi rende assoluto, unitariamente assoluto, romano, è il valore eccezionale, primo, che sta alla base massima massima di tutti i primi, i cinque primi, con i quali 2 elevato a 6 si combina. Ora, poiché 707.520 diviso per 67, ossia per romano assoluto, è 10.560, mentre quando è diviso per 66 è esattamente 10.720, nel primo caso 10 elevato a 1 più 3, cioè 10, la base divina, elevato alla potenza 1 e trina, più 560 mostra tutta la realtà 1 e trina, basata sul 10, per come è riferita a 660, che sarebbe 10 volte romano, 10 è il valore di Dio, moltiplicato per 66, 660 è il valore unitario intero assegnato alla parola romano, meno 100, laddove 100 è proprio il valore dell'unità assoluta. Quindi nel primo caso, ottenuto dalla divisione per 67, ossia per il numero primo, abbiamo l'espressione della unità e trinità di Dio, sulla base 10, relativa a 10 romano meno, cioè riferiti al centro della unità assoluta. Nel secondo caso, invece, quello ottenuto dalla divisione per 66, che indica quante volte quella vita è il multiplo di romano, esso rivela che è multiplo per 10.720 volte, che indicano ancora nel 10.000 tutta la realtà 1 e trina basata sul 10, mentre il 720 è romano 66, più 6, ossia più l'unità delle due che sono contenute nel 6,6, quindi 6,6 più 6, 72, per 10, ossia espressa a livello divino 10.000. Quindi quando questa quantità esprime direttamente la quantità multipla di romano, il 10.720 riferisce proprio il valore unitario relativo al romano. Ma questo non è eccezionale, è espresso in tutti i modi. Per esempio, la città santa identificata con Dio si chiama Gerusalemme. Ebbene, Gerusalemme stessa è infatti basata su Gesù. Però Gesù Salemme non è così, è Gerusalemme, laddove Gesù ha nel suo cuore la R di romano che non a caso è nato in provincia di Salerno, nel suo me. Di conseguenza perfino il nome di Gerusalemme attesta che in Gesù c'è la comprensione della R di chi è nato a Salerno ed è il sale della terra quello a cui proprio si riferì Gesù Cristo. Ora, per altri versi noi abbiamo visto qual è la formula dalla quale si ottiene il rilancio della vita di Gesù in suo padre. Come si arriva in altri termini alla data del 25 1 38 attraverso la potenza di 44,022 86 33 8 che espressa al quadrato ossia per le due persone del padre e dello spirito santo rivelano nel quadrato il 1938,01 25 che è proprio la data del 1938,01 gennaio 25 che si riferisce proprio al duo compreso in questo modo laddove 44 è l'unità di Dio perché l'unità di Dio poggiata sul ciclo 10 che esiste nella sua unità è data da 10 più 1 è data da 11 quando questo 11 è veramente divino è 1 e trino e allora esiste come 11 più 33 ed è 44 44 esprime tutta la differenza di potenziale che è compresa in 220 volt che vanno da meno 11 a più 11 ora da meno 22 a più 22 44 indica tutta la crescita positiva ma va riferita per intero al suo valore dimezzato quando noi vogliamo passare dall'energia che avanza bilateralmente alla massa che si muove invece solo in un verso di conseguenza il 44 dimezzato in un verso solo diventa 22 ma va espresso a livello delle unità millesime del mille che sono quelle dell'unità della massa quindi devono essere 22 millesimi e 44,022 esprime la prima parte di questo potenziale da cui poi si ottiene romano il seguito del numero è dato da 44 più 44 ossia da tutta la crescita 44 sommata a tutta la decrescita 44 è un valore complesso che possiamo considerare tutto come spazio tempo se vogliamo conoscere tutto il flusso condizionato da una sezione uno per uno noi dobbiamo togliere due dimensioni quelle dell'area per ottenere solo la sezione del flusso lineare a questo punto 88 diventa 86 e 86 va integrato con la vita esatta di Gesù Cristo 33 e poi con il valore 8 che è la potenza 3 più 3 del duo divino che si incarnerà come il padre e spirito santo di Gesù Cristo quindi il valore 44,022 86 33 8 è proprio quello legato al duo che quando si esprime come un duo e quindi si moltiplica si esprime al quadrato da nel suo quadrato il valore esatto di 1938 0125 questo è tutto il contenuto di una sezione trasversale che non si muove ma può divenire tutto un tempo in movimento unitario se trasformiamo questa sezione in una sezione unitaria e dividiamo 1938 0125 per 1 ossia per la sezione 1 al quadrato in questo modo lo stesso contenuto è costretto a disporsi tutto come flusso lineare e unitario di solo tempo e va a confermare l'anno 1938 nel mese 01 e nel giorno 25 in cui nasce Romano questa prova che invece state vedendo qui davanti ai vostri occhi vi dimostra veramente come quel quantitativo che somma nell'indice il 7 volte 101.000 a un settimo dell'unità data da 10 alla 10 anni è proprio quel valore che poggiandosi sul 7 unitario di 10 alla 10 anni va a calcolare le 7 volte l'onda unitaria la prima dimostrazione è stata espressa nel ciclo 101 unitario dell'unità in quella quantità 10 alla 7 10 alla 5 che è proprio tutta la quantità reale esistente in 10 alla 10 quindi la prima dimostrazione che è questa che vedete davanti agli occhi conferma quell'altra che è legato alla potenza dei numeri per cui una conferma e verifica esattamente l'altra grazie grazie